Hai sentito la grande notizia? Carlo Conti sarà il presentatore del Festival di Sanremo 2025. Sì, hai letto bene. Dopo tanto tifo e sostegno da parte del pubblico, finalmente ha accettato questo incarico importante. E sai qual è il bello? Il suo contratto non riguarda solo l'edizione del 2025, ma anche quella del 2026. Una grande notizia per tutti i fan di Carlo Conti? Immagina la sorpresa di Amadeus quando ha saputo chi sarebbe stato il suo successore. Ma cosa ha fatto Amadeus? Subito dopo l'annuncio, si è messo in contatto con Carlo Conti per inviargli un messaggio di congratulazioni e sostegno. E non è finita qui, perché i due si sono sentiti al telefono in modo affettuoso. Che bel gesto, no, questo gesto dimostra quanto ci sia stima e affetto tra i due conduttori. E ora Carlo Conti può iniziare ufficialmente la sua avventura come direttore artistico del Festival di Sanremo. Che emozione, e tu, cosa ne pensi di questa notizia? Se sei un fan di Carlo Conti, sicuramente sarai entusiasta di vederlo sul palco dell'Ariston. Non vediamo l'ora di scoprire le novità e le sorprese che ci riserverà il Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti ai comandi. Ecco un altro esempio di come il mondo della televisione possa regalarci momenti emozionanti e pieni di sorprese. Non vediamo l'ora di vivere insieme a Carlo Conti questa nuova avventura televisiva. E tu, sei pronto per tifare per lui e seguire tutte le novità sul Festival di Sanremo 2025?